meno tre meno due meno uno zero uno due tre continuiamo con i numeri naturali fino all'infinito e oltre come direbbe Buzz Lightyear esatto e tanti altri ma noi siamo scienza non fantascienza esatto e continuiamo con altri slogan più o meno pubblicitari o cinematografici Andrea Polazzi arriva presto va via presto e non pulisce il water va bene cominciamo adesso a parlare di libri perché questo è il cuore anzi il core business di questa trasmissione libri letture abbiamo un business si è un core no quello quello non ce l'abbiamo Stefano Rossini Andrea Polazzi perché dirvi cose che sicuramente sapete e annoiano tutti per cui come il resto della trasmissione ma quelle ancora di più parliamo subito di libri cari amici io continuo sul filone della scorza settimana ricorderete come un filone di pane ricorderete perché ci seguite assiduamente che vi ho portato l'atlante delle terre del sogno di Lovecraft ebbene ho Lovecraft anche questa settimana perché l'avesse qui tra noi anche perché è morto quasi quasi un secolo fa e perché in questo periodo si vede che il nostro caro autore di Providence sta riscuotendo una nuova fortuna e sono tante le edizioni ricordo che qualcosa ho portato anche nei mesi scorsi di ristampe di racconti e soprattutto nuove edizioni sempre più curate ricordiamo così apriamo una brevissima parentesi che Lovecraft arrivò in Italia come autore un po' snobbato e poco apprezzato con un pubblico di nicchia ma negli anni questo pubblico è cresciuto e oggi davvero possiamo considerare Lovecraft come uno dei grandi autori che ha plasmato l'immaginario di questo di questo nostro secolo molto apprezzato in tutto il mondo e ha avuto diciamo un effetto davvero seminale su tanti altri autori di cinema libri eccetera ma ci sono ancora libri che non ha letto di notte allora no libri penso di aver letto quasi anche perché si parla di racconti e alcuni saggi poi lui ha una smisurata produzione epistolare ha scritto tantissime lettere io ne ho lette alcune selezioni quelle pubblicate in Italia ma in realtà sono migliaia e migliaia e migliaia le lettere che lui ha scritto e che non sono arrivate e quindi oggi di cosa ci parla oggi vi parlo di una bella riedizione di un di un saggio di Lovecraft perché appunto prima l'ho accennato ha senso perderci un altro istante seppure molto apprezzato come autore di narrativa in realtà lo scrittore di Providence è stato molto prolifico anche in altri diciamo così in altri stili come quello legato alla critica letteraria in generale alla produzione diciamo così di saggi questo è forse il suo saggio più famoso che era stato fuori produzione per parecchi anni girano vecchie edizioni insomma per gli appassionati chi ce l'ha e oggi esce da poco non oggi ma da poco questa bella edizione di Odoglio una casa editrice tra l'altro molto attiva ricordate che avevamo portato l'almanacco della letteratura fantastica insomma fanno delle delle belle produzioni e oggi ci ripropongono l'orrore soprannaturale in letteratura quindi un saggio doppiamente interessante non si riferisce a noi in quanto soprannaturali in quanto orrore no grazie a dio non si riferisce a noi ah e altri scritti sul world world se non mi piace la mia pronuncia dicevo un saggio doppiamente Londra de Syra esatto Londra Nord interessante perché allora intanto ha una bella introduzione di Marco Malvestio che cura tutta l'edizione e che ce lo presenta insomma e ce lo propone ce lo descrive molto 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 accuratamente e tra l'altro tutto il libro anche in questo caso è corredato di belle immagini spesso stampe dell'epoca come vedete insomma molto una bella impaginazione anche in questo caso molto molto piacevole come regge bene il primo piano certo quando uno è bello è bello e dicevo questo saggio è interessante per due motivi principali il primo perché ovviamente è uno dei primi forse non il primissimo ma ce la giochiamo su settimane se non mesi saggi di critica letteraria dedicato alla letteratura fantastica l'altro aspetto interessante è il fatto che Lovecraft in questo saggio ci mostra anche diciamo così un po' quali sono le sue fonti le sue ispirazioni gli autori che amava di più la selezione quindi che ha fatto di autori suoi contemporanei o di poco precedenti che lo hanno quindi ispirato ma è anche un modo per entrare un po' nell'officina letteraria di Lovecraft quindi per diciamo un po' guardare spiare quali sono anche gli elementi che per Lovecraft danno vita a un racconto di orrore soprattutto soprannaturale rispetto a quella che diciamo che per tanti anni è stata la fantascienza più pulp no c'è proprio una differenza sostanziale che Lovecraft sottolinea in più riprese e che per lui è proprio un elemento di rimente ovvero che tanta fantascienza pulp di base è il classico raccontino d'avventura rivestito però con un po' di tecnologia per cui che ne so come tanti racconti negli anni 40 50 siamo su venere con Buck Rogers che prende tutti a pugni e salva la principessa venusiana ci sono i razzi ci sono le pistole laser ma di base insomma è un raccontino di di avventura mentre invece l'orrore soprannaturale ha proprio un aspetto particolare che è quello di di mostrare all'uomo l'ignoto di fronte a sé e la paura che questo ignoto causa quindi paradossalmente in questi racconti non deve esserci per forza l'avventura e l'uomo non deve essere neanche il protagonista perché si trova in un cosmo più grande di lui in cui in qualche modo è una è una sicuramente inconsapevole vi leggo solo la le prime righe proprio due due righe di la casa può leggere due righe di introduzione di questo saggio di lovecraft che dice l'emozione no no l'emozione più antica e forte dell'essere umano è la paura e il tipo di paura più antico e intenso è la paura dell'ignoto quindi già queste primissime battute troviamo un po il senso di quello che leggeremo anche in questo caso è una lettura che non consiglio solo agli appassionati di lovecraft ma in generale chi non ce l'ha e ama lo scrittore di providence dovrebbe avere questo libro ma anche per in generale in qualsiasi appassionato di letteratura principalmente di fantascienza horror ma non solo ha terminato ho terminato perfetto io parlo di un libro invece molto datato ma che ho letto solo recentemente atto d'amore di joe lansdale questo è il suo primo romanzo sono andato a ricercare la data di pubblicazione prima edizione 1981 atto d'amore e parto dalla fine cioè non dalla fine del romanzo ma dal fatto che nella post fazione lo stesso lansdale questa è un'edizione recente edizione e in audi racconta la genesi di questo romanzo quante case editrici glielo hanno rifiutato perché ritenuto non all'altezza eccessivo da altri punti di vista fino a trovare poi invece la possibilità della pubblicazione da qui in avanti è un autore è stato un autore molto prolifico lansdale aveva 27 anni quando ha pubblicato questo questo romanzo atto d'amore romanzo diciamo proprio un thriller molto cupo molto duro ambientato negli anni 80 all'inizio degli anni 80 poi appunto l'epoca in cui esce il romanzo stesso lungo le strade di una houston che viene dipinta sicuramente a tinte fosche io devo dire la verità ho letto altri romanzi di lansdale quelli magari ambientati negli anni 40 agli anni 30 ne ha scritti tanti anche il ciclo di apeleo esatto ma tra l'altro con un personaggio introdotto qui che poi ritorna anche in altri romanzi più avanti quello dell'investigatore però un romanzo che dopo le prime dieci pagine ho pensato di chiudere perché mi incuriosiva ma è veramente crudo nelle descrizioni anche delle feratezze che il serial killer a cui poi si dà la caccia lungo le pagine del romanzo mette in atto nei confronti delle sue vittime quando che poi anche ho deciso di continuare a leggerlo perché mi piaceva la storia saltavo quando vedevo che si soffermava su alcuni dettagli un pochino più avanti le faceva paura come il film quando si gratticcia un po diciamo che il serial killer che è ribattezzato il macellaio viene ribattezzato così dal giornale locale di houston compie sulle proprie vittime delle feratezze veramente che vanno poi increscendo di vittima in vittima diciamo con alcuni aspetti che ricordano anche l'annibal lecter del silenzio degli degli innocenti la storia appunto è quella di queste indagini nella in una città veramente dipinta tinte fosche il primo assassino è quello di una prostituta di strada noi tra l'altro viviamo questi racconti anche dal punto di vista dello stesso killer che li rende ancora più crudi da da affrontare soprattutto leggendo quelle che sono le motivazioni che lo portano a compiere questi atti che arrivano tutto in un colpo c'è una persona ovviamente non vi dico chi è non vi dico il sesso non vi dico nulla che fino a quel punto in qualche modo è riuscita a nascondere a tenere sedata in alcuni casi è nascosta appunto in altre la sua vera indole tanto che ci sono alcuni sospetti insospettabili nel corso delle indagini l'investigatore il protagonista è Marvin Hanson un tenente di colore della polizia di Houston che indaga insieme al suo compagno di cui adesso mi sfugge di quella verità il il nome comunque sono loro due che prendono in mano queste indagini ma il tenente Hanson la prende molto sul personale questa indagine anche lui non riesce a capire bene per quale motivo la senta così così vicina però diciamo che questa indagine lo porta anche un po' ad allontanarsi ad estragnarsi dal lavoro e anche dalla famiglia lui ha una moglie una figlia adolescente ma vediamo che le indagini poi si intersecano anche con la stessa sua vita personale e poi tra i protagonisti c'è anche chi scrive il giornalista sembra un po' Seven da come lo sta raccontando forse alcuni in alcuni aspetti lo può ricordiamo che siamo nel 1980 81 quindi quando tanti di questi romanzi di questi personaggi con cui abbiamo iniziato a rire di mestichezza sono non erano ancora stati pensati in molti casi comunque è un romanzo molto rapido da leggere sono circa 200 pagine non perde tempo in descrizioni preamboli e quant'altro i personaggi li conosciamo diciamo così direttamente sul campo dal killer agli investigatori a tutti i personaggi di di contorno appunto molto curioso leggere le 4-5 pagine finali di postfazione di Lansdale che oltre a raccontare la genesi del romanzo lo guarda anche un po' da esterno cioè vedendo anche quelli che sono magari col piglio dell'autore affermato i piccoli punti neri o comunque le cose che adesso avrebbe fatto diversamente scrivendo un romanzo di quel tipo a cui comunque sembra dalle sue parole molto molto legato una lettura da fare se siete deboli di stomaco però pensateci perché potrebbe causare tre quattro pagine si parte subito con un macello esatto ricordo il titolo joe r lansdale atto d'amore il suo primo romanzo 1981 polazze ogni tanto lei riesce a essere quasi interessante quasi però è tra l'altro sia in questa puntata che nella scorsa ha parlato di persone sedate di sedativi non so se vuole dire anche se da tavo almeno siamo in sintonia caro polazze questo è sempre piacuevole io vi ricordo invece il libro di cui ho parlato la nuova edizione dell'orrore soprannaturale in letteratura è di lovecraft hp lovecraft a cura di marco malvestio edizioni di chi è quel cervello che ha rubato l'altro giorno quali erano le iniziali a b qualcosa a b cosa a b norme abnormal ci ritroviamo la prossima settimana forse l'altro giorno